L'adrenalina pura arriva ad Andrea grazie al Big Show Roller Cars del team di Stuntman della famiglia Bizzarro dall'8 al 19 giugno nei pressi del centro commerciale Mongolfiera spazio alle emozioni per cuori forti, salti acrobatici in moto, macchine e camion su due ruote e molto altro Ogni giorno a partire dalle ore 21 lo spettacolo è assicurato, la famiglia Bizzarro tiene col fiato sospeso il suo pubblico dagli anni 60, 4 generazioni che hanno fatto dell'adrenalina e del rischio il proprio pane quotidiano Sicuramente abbiamo un peso sulle spalle notevole, sono 4 generazioni che momentaneamente si esibiscono Ha iniziato mio nonno negli anni 60 in Europa per portare questo spettacolo poi in Italia negli anni 70 Fortunatamente cresciamo in un ambiente dove si sgomma e si impenna e di conseguenza poi quando si arriva a una certa età siamo maestri di questo lavoro Ho iniziato che avevo 4 anni, credo, 4 anni e mezzo con la mia prima moto sulla mia prima esibizione Quindi adesso sono 39, sono già qualche 35 anni in pista Quello che ci possiamo spettare del Big Show è adrenalina pura Quindi macchine su due ruote, camion su due ruote, freestyle motocross, moto che impennano, gente che si dà fuoco Tutto quello che vedi nei film d'azione noi te lo proponiamo dal vivo Una professionalità riconosciuta a livello mondiale Il team bizzarro ha avuto anche un ruolo chiave nel cinema Girando diverse scene d'azione in House of Gucci, Equalizer, Mission Impossible e Fast and Furious 10 Perseverando e inseguendo un sogno si arriva poi a lavorare nei film un po' più importanti Che sono arrivati in Italia in questi ultimi anni come Red Notice, House of Gucci e Fast and Furious 10 Che è l'ultima pellicola che abbiamo girato Quella è stata la realizzazione di un sogno nel cassetto Avevo 16 anni quando uscì il primo Fast and Furious e il primo pensiero è stato Guarda, un giorno voglio fare lo stuntman in Fast and Furious A distanza di 20 anni questo è successo Per quanto mi riguarda io ho fatto diverse scene di combattimenti, incidenti in film come Fast and Furious 10 Ultimamente sono stata in Marocco per tre settimane Abbiamo girato un film che è Cold Storage Che con Liam Neeson io ho fatto la controfigura della figlia di Kevin Bacon Che saluto Il Big Show non deluderà le attese il team bizzarro È sinonimo di talento unito ad una preparazione notevole In quei momenti, quegli istanti in cui sei in aria, che cosa pensi? Un sacco di cose C'è un pochissimo tempo visto da fuori Però quando sei in aria comunque il tempo si allunga Vedi un po' di correggere la moto Fare il movimento un po' più giusto Poi ogni tanto non funziona Tanta concentrazione insomma Sì, un sacco di concentrazione Un sacco di allenamento E poi piano piano si fanno le cose Adrenalina a palla? Sempre Non resta che vivere le emozioni forti del Big Show Roller Cars Per una serata all'insegna dell'adrenalina e dello spettacolo Un'ora e mezza di salti Salti motocross freestyle 20 metri di lunghezza 12 metri in aria Esibizioni con mezzi pesanti Moto Fuoco Ci mettiamo un po' di tutto Un'ora e mezza veramente per spassarcela Se ci trovate qua, venite a trovarci Fate spettacolo insieme a noi Io so che sarete numerosi Vi aspettiamo tutti, ma proprio tutti Ci vediamo ad Andrea dal 8 al 19 giugno